Un'autonomia di 150 km all'ora, una velocità massima di 80 e la novità delle batterie intercambiabili. A Firenze la flotta di Enjoy, il car sharing di Eni, diventa anche elettrica con l'introduzione della city car Xev Yo-Yo, predisposte appunto per il battery swapping, ovvero la sostituzione di una batteria scarica con una carica. Sono tre batterie da 22 kg l'una e abbiamo allestito dei cabinet per la ricarica di queste batterie nelle stazioni di servizio del Eni. Le macchine sono classiche macchine elettriche con il cavo di ricarica, però avendo in aggiunta questa possibilità della sostituzione delle batterie daranno un impulso al trasporto elettrico e quindi è un primo modello che si potrà affiancare anche ad altri, e auspichiamo di city car che superano il problema della mancanza della colonia di ricarica, del come spostare la macchina quando si scarica e anche della possibilità proprio dell'autonomia. Le auto elettriche disponibili in città sono 50, tutte di colore verde lime. La tariffa è 29 centesimi al minuto con un costo di 1 euro per lo sblocco del veicolo a inizio noleggio. Ogni auto ci consente di eliminare dalla circolazione 10 veicoli privati, quindi se già partiamo le prime 50 abbiamo un potenziale di riduzione del traffico di 500 veicoli al giorno. È in atto inoltre il bando pubblico per realizzare 100 nuove colonnine elettriche e rimettiamo anche a posto tutte le altre colonnine che corrispondono a 450 punti di ricarica.